Allora, adesso arriva una canzone particolare. Componiamoci bene in diretta perché è una canzone bellissima che si intitola Besame, besame, perché particolare? Perché l'autrice, cantante, non la canterà in diretta, verrà qui e ci racconterà un pochino di questa canzone, perché vedremo in anteprima il video, in anteprima nazionale. Quindi chiamiamo un secondo sul palco Marina Damiani. Eccoci. Eccoci qua. Allora, e anche io porto a voi il mio nuovo lavoro discografico si intitola Sognami, che è la canzone che abbiamo fatto prima alla nostra cumbia e questa invece è la nostra nuova baciata, che la trovate all'interno di questo disco e, come hai detto tu, è l'anteprima nazionale del nostro ultimo videoclip, quindi la guardiamo tutti quanti insieme qua da Canale Italia. Besame, mirando il sole, besame, la notte sta arrivando, besame, Buscando il sole, besame, tu amore mi sta matando, una mentira non si sarà, por me, tus ojos ya mi encantaranno, così. Una promessa e voi, bailando in la luna, che è come una cuda, sarà una manta che mi calentara. Besame, la notte sta arrivando, besame, mirando il sole, besame, Tu amore mi sta matando, besame, la notte sta arrivando, besame, Un fogo che già arriva al cielo per te, un nuovo giorno che vengono, così. E, come hai detto, besame, la notte sta arrivando, besame, Mirando il sole, besame, mirando il sole, besame, tu amore mi sta matando, besame, Buscando il sole, me despierta ora tu sorrisi, che illumina la oscurità. E, come hai detto, besame, il sole, besame, il sole, besame, E, come hai detto, besame, 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 la notte sta arrivando, besame, mirando il sole, besame, tu amore mi sta matando, besame, la notte sta arrivando, besame. Besame, besame. Canzone straordinaria di Marina Damiani, allora ricorderei l'autora della canzone perché è veramente molto bella. Il grande Alessandri. E il regista. Il regista di questo meraviglioso video è Davide Legni, ma io ringrazierei anche l'edizione musicale Vocal Sound che ha permesso tutto questo.